Buongiorno, oggi parliamo di... Chiara Corbella. Testimone del sacrificio per il prossimo, Chiara Corbella. Chiara Corbella è una giovane donna nata a Roma nel 1984. A 18 anni, mentre era in pellegrinaggio a Međugor... Međugorje? Incontra l'uomo che sarebbe diventato suo marito. I due si sposano e hanno due figli, entrambi morti poco dopo la nascita. Durante la terza ed ultima gravidanza, Chiara scopre di avere un tumore. Dopo aver dato alla luce il figlio, inizia il percorso di radioterapia e chemioterapia. Ma ormai il tumore è troppo diffuso e la giovane madre muore nel 2012. Viene proclamata serva di Dio ed inizia per lei il processo di beatificazione. Quanto è importante mettere da parte se stessi per il bene dei ragazzi? Nel Grest sei chiamato a mettere da parte te stesso per essere al servizio dei più piccoli. E allora che quest'estate ci alleni ad essere tu per tutti e ad interrogarci costantemente su chi sia il nostro prossimo.